Domani l'inaugurazione della nuova stagione del teatro alla Scala di Milano, l'evento culturale più importante dell'anno, sarà seguito in esclusiva dalla RAI. Il Fidelio di Beethoven sarà trasmesso in diretta da RAI 5 e da Radio 3. Rai News 24 si collegherà con il Pier Marini fin dal pomeriggio. Seguiremo quanto accadrà all'interno ma anche all'esterno del teatro. E dal foie seguiremo con inviati ospiti questa importante occasione culturale mondana. Fidelio, unica opera per il teatro Beethoven, sarà diretta da Daniel Barenboim che conclude la sua esperienza di direttore musicale iniziata nel 2011 con il teatro alla Scala. L'elenco di titoli che ebbero un esordio sciagurato e che oggi è solamente considerati capolavori storici è alquanto lungo. Dal Fidelio di Beethoven, come abbiamo visto alla Scala, alla Carmen di Bizet. Ce ne parla Guido Zaccagnini in Piano Pianissimo. La stagione 2014-2015 del teatro alla Scala di Milano si inaugura con Fidelio, l'unica opera teatrale di Beethoven che andò in scena per la prima volta il 29...